Momento assolutamente significativo e importante per Rovigo, ovviamente per l'Università, oggi le prime lauree del corso di Ingegneria del Scuadrogeologico, momento importante perché segna anche un passaggio importante ovviamente per chi oggi si laurea, ma anche per la prospettiva di un corso, di un'iniziativa così importante per Rovigo, per i Polesini e per la sua attività universitaria.